Ciao siamo Fabio Cora, i fondatori di Aria, un progetto che ha l'obiettivo di diffondere la cultura dell'abitare consapevole. Aria è arredo, recupero, rinnovazione e architettura. 16, 17 e 18 settembre, venerdì, sabato e domenica, a Fano in zona Pincio, un evento aperto a tutti. Tre giorni con tante idee, tanti espositori, tanti incontri per soddisfare la vostra curiosità sul mondo della casa. 43 spazi espositivi allestite da imprese e artigiani, in più gli ordini professionali e le università, in tutto 50 espositori. Un ricco programma di conferenze, workshop ed eventi collegati al mondo dell'abitare. E per farli sentire a casa abbiamo pensato anche all'intrattenimento, concerti, proiezioni di film e laboratori per i più piccoli. Visita il nostro sito e scarica il programma su www.aria.cal. Vi aspettiamo! Buonasera cari amici di Dopocena, benvenuti, ce li abbiamo qui, insomma i geniacci di Aria sono venuti a trovarci per farci capire, insomma oltre allo spot iniziale dove hanno presentato un po' quello che sarà l'evento, però vogliamo capire proprio da loro di che cosa si tratta e quindi con il loro aiuto, con le loro parole capiremo, entreremo ancora più nello specifico di questa tre giorni tutta dedicata alla tua casa. Ho detto tua casa, non a caso, adesso gioco anch'io un po' con le parole, allora salutiamo subito Cora Fattori e poi Fabio Signoretti che insomma come vi ho detto sono coloro i quali dalle menti insomma è scaturita questa idea. Allora insomma la tua casa, Fabio questa è un'idea tua di dire la tua casa, perché la tua casa? La tua casa prima di tutto perché comunque le persone che vengono all'evento sono interessati a fare delle cose per la propria casa, poi ci piaceva questa cosa perché comunque il nostro evento vuol portare le imprese, comunque la cultura dell'abitare verso le persone e quindi noi andiamo nel centro della città all'interno delle mura di Fano e portiamo appunto le competenze, le informazioni della casa verso i cittadini, quindi andiamo praticamente a casa dei cittadini, è come se a casa tua, esatto. E quasi anche l'evento dentro casa tua. Fate come i salmoni insomma, risalite la corrente al contrario. Ci piace l'idea di comunque poter utilizzare il centro storico, comunque dei posti bellissimi come il Pincio per poter fare cultura, informazione al servizio della cittadinanza. Bene, allora a beneficio di insomma, perché qualcuno che li conosce c'è, ma siccome andiamo anche al di fuori del perimetro di Fano, capiamo chi siete e da dove venite, cioè perché anche avete pensato di mettere, di allestire questo evento, questa manifestazione. Allora l'idea è venuta quasi naturalmente, io sono ingegnere, lavoro nell'edilizia, Fabio lo stesso lavora nell'edilizia come impresa e quindi ci ritroviamo tutti i giorni ad avere a che fare con le problematiche sul mondo dell'abitare, soprattutto sulla cultura dell'abitare. Vediamo che molte volte i clienti, le persone che devono fare la loro casa hanno mille dubbi, si informano, vogliono saperne di più ed è giusto che ne sappiano di più, però hanno un bombardamento di informazioni confuso e quindi abbiamo pensato di aiutarli in questo. Questo è nato appunto come una cosa, come se fosse naturale pensare a questa cosa, perché lo vediamo tutti i giorni nella nostra vita professionale. Mi siete messi un po' dalla parte dell'utente che magari pensa alla propria casa e dice no. Quando faccio un progetto dico sempre alla fine io posso avere molte idee, però non ci abito io, ci abita qualcun altro, quindi è giusto che questo qualcun altro sia contento. Proviamo sempre a realizzare questa cosa, ma a volte ci accorgiamo che fanno fatica a capire certe scelte, ma è normale. Allora abbiamo pensato a un contenitore che ha qualcosa che li potesse aiutare a informarsi più agevolmente, a mettersi in contatto con le imprese e appunto sviluppare una cultura dell'abitare. E poi abbiamo visto che sono tutti molto interessati all'argomento casa. La casa è la cosa che più ti sta a cuore, la famiglia anche. Poi noi italiani siamo particolarmente legati a questo concetto, siamo forse al mondo, insomma la nazione che ha più proprietari di casa in assoluto. Quindi per noi la casa è importante, quindi un argomento sensibile, diciamo così. Però ecco non è solo, anzi non è assolutamente una fiera campionaria dove le imprese vengono e fanno vedere l'oggetto del proprio lavoro, anzi è se vogliamo un contenitore culturale se mi passate questo termine, è giusto? Assolutamente, infatti ad Aria troverete 50 espositori, 16 conferenze, un programma di intrattenimento serale, quindi comunque è un evento a 360 gradi, tutto collegato comunque al mondo della casa, tutti gli espositori che ci sono comunque apportano argomenti, tematiche inerenti a questo. Quindi è molto focalizzata, è poco generalista, è questo diciamo. Anche perché ci sono quattro sottotitoli, no? Arredo, recupero, innovazione e architettura. Quindi sono tutti aspetti... Che fanno parte del mondo casa. La casa va arredata, la casa molto spesso va recuperata, il patrimonio edilizio esistente è ricco, va riegato e non necessariamente bisogna radere al suolo e rifare. A volte sì, però molte volte si può recuperare con successo, bisogna anche innovare. Tra l'altro vorrei sottolineare che noi nel nostro territorio abbiamo una ricchezza di tecnici, persone, centri studio e imprese veramente molto valide ed è giusto conoscerli. E in più l'architettura che è quello che poi ridefinisce il tutto. È insomma, colei che lega un po' tutti questi aspetti. Allora, ambe due lavorate nel mondo delle edilizie, quindi avete a che fare sia con le imprese, con le aziende, col territorio, con gli enti comunali, insomma tutto il mondo che gira a tono. In questo momento quali sono gli aspetti che in questo momento sono più evidenti? Insomma, l'acquisto sicuramente, l'arredo, il recupero oppure l'ex novo? Cioè, quali sono nell'ambito casa i settori che in questo momento sono un po' i trainanti di questo ambito? Sicuramente l'ambito del risparmio energetico è un tema molto importante, sia per una questione economica, ma anche per una questione di salvaguardia proprio anche del pianeta, comunque del nostro ambiente. Quindi il risparmio energetico sicuramente è un settore che forse è tra tutti quello che è più trainante in un momento comunque di crisi. E quindi comunque le nuove tecnologie, l'innovazione e anche il ritorno a tecniche costruttive antiche e materiali naturali è un aspetto, è ancora diciamo una piccola nicchia del mercato, ma sicuramente in crescita. Quindi la costruzione più classica forse ancora attira molto, perché comunque nella cultura italiana è radicata, però sicuramente in questo momento fatica un pochino di più. La parola recupero che abbiamo all'interno proprio di Aria, perché Aria è proprio un acronimo, è una parola semplice ma proprio racchiude queste quattro lettere, arredo, recupero, innovazione e architettura. Prima parlavamo di recupero, recupero è anche evitare di occupare un nuovo suolo pubblico libero, un nuovo suolo pubblico e quindi cercare di recuperare quello che c'è senza cercare di costruire del nuovo, perché comunque gli spazi verdi sono sempre importanti all'interno delle città, all'interno dell'ambito urbano. Ecco, sicuramente di aziende ce ne sono tante, in tutti i settori, in tutti i ambiti, e quindi sicuramente l'utente finale che si trova a dover affrontare qualcosa che riguarda la sua casa naviga in un mare magnum di aziende. Come ci si orienta, ecco, da detto i lavori, come ci si orienta nelle scelte, nel captare le giuste esigenze per la propria... Da adesso si può venire ad aria... Io l'ho tirata lì su un vassoio d'argento, praticamente l'ho buttata lì, non a caso, ecco. Come ci si orienta? Ci sono più aspetti, c'è più punti di vista, meglio, c'è il punto di vista del tecnico, quello dell'impresa e quello dell'utente finale, di chi fa casa. L'utente finale si orienta chiamando magari dei consiglieri, dei tecnici, dei consulenti fidati, informandosi con le imprese, informandosi su internet. Però molte volte c'è un bombardamento di idee, di cose, quindi bisogna un po' iniziare a fare un percorso, no? Per approssimazioni successive. Il tecnico, tanti corsi, tanto studio e tanto aggiornamento. Gli ordini professionali puntano molto sull'aggiornamento, infatti saranno presenti anche fisicamente all'evento perché sono stati contenti di questa cosa e noi li ringraziamo vivamente, come ringraziamo le università, quindi tanto aggiornamento e tanto studio. E le imprese lo stesso si devono aggiornare, molte lo fanno e noi abbiamo trovato una bella situazione territoriale, di aziende che hanno voglia di fare, che appena gli si propone qualcosa di nuovo sono contente. Tutte le aziende che saranno lì presenti ci hanno conquistato, diciamo, perché all'inizio temevamo di doverci confrontare con magari aziende un po' difficili, invece sono state tutte molto collaborative, di questo le ringraziamo. Bene, allora Fabio, l'informazione, noi viviamo di informazione e questo è un contenitore che fa anche dell'informazione, oltre che a presentare persone, cose e oggetti vari, l'informazione è importante, quindi voi nell'informazione, nella divulgazione di messaggi corretti e consapevoli avete fatto un saldo di aria, quindi ci sarà anche questo aspetto conferenziale e divulgativo. Chi sono gli attori di queste parti di aria? Gli attori di queste parti di aria sono diversi, partiamo dagli ordini professionali, che terranno delle conferenze, parliamo delle università, che terranno lo stesso delle conferenze, ricordo ad esempio la conferenza dell'Università di Urbino sulle reti d'impresa, proprio perché una delle missioni di aria è anche quella di fare rete tra le imprese e cercare di far capire alle imprese, medio, piccole o micro imprese, che unirsi e collaborare è importantissimo e oggi è vincente. Senza le sinergie non si va da nessuna parte, noi stessi come aria abbiamo cercato di creare più sinergie possibili con partner, con anche aziende, imprese, enti e abbiamo visto che comunque quando ci sono le sinergie le cose vanno avanti, scorrono perché poi ognuno ha delle competenze diverse e non possiamo sapere tutto tutti e bisogna sapere anche lasciare un po' delegare a chi sa fare le cose giuste. Poi la casa è diventata una macchina complessa, non è più quattro mattoni uno sopra l'altro, la casa è un qualcosa che vive di complesso, che ha un cuore, che è un impianto, che può avere varie tecnologie costruttive, che ha una serie di finiture particolari, il cliente è diventato più esigente perché la qualità della vita è aumentata. Un'impresa se lavora da sola andrà benissimo per carità, ma se crea delle sinergie con altre imprese riesce a dare un prodotto migliore, a lavorare meglio e ad avere se stessa una qualità della vita migliore perché poi è reale questa cosa. Quindi questo è un aspetto fondamentale di aria perché si rivolge all'utente finale ma anche alle imprese. Ma infatti da questo punto di vista il consiglio che possiamo dare come attenti a chi deve ristrutturare o comunque fare casa, l'aspetto progettuale, l'aspetto comunque iniziale, di programmazione, adesso si fanno dei business plan per fare casa proprio perché l'investimento che faccio oggi magari spendo poco ma non mi rendo conto che nel tempo poi andrò a spendere tantissimo. Quindi l'aspetto energetico ma anche l'aspetto stesso di progettazione come dicevo è importante perché poi se organizzo bene il progetto, il cantiere eccetera il lavoro poi scorre, non mi stresso perché lo vediamo nel nostro lavoro. Entrambi abbiamo a che fare, io ad esempio lavoro molto con le finiture di interni, con le pietre naturali e arrivo sempre alla fase finale del progetto e molto spesso purtroppo le persone sono un po' agitate, stressate, iniziano ad essere un po' stanche perché è una bella fatica per casa, sia economica che a livello di mentale assolutamente. Allora se l'abbiamo detto all'inizio, se avete seguito la puntata dell'inizio colto nello spot che vi abbiamo fatto vedere, l'evento riguarda la casa, si chiama Aria e avrà come scenario, come palcoscenico un'area bellissima di Fano che è il Pincio e sarà 16, 17 e 18 e quindi insomma questi sono tre giorni dedicati appunto alla casa però è un evento open, cioè non è un evento solo per addetti ai lavori o da addetti ai lavori Assolutamente, alla tua casa, questo è per voi eh? Mi raccomando! Tra l'altro volevo cogliere l'occasione, questo è il programma dell'evento, lo potete scaricare su www.aria.casa, lo troverete anche distribuito in locali, in negozi eccetera in giro per Fano nel territorio, però se non lo trovate andate sul sito, ve lo scaricate ve lo tenete nel vostro smartphone e quindi ce l'avete sempre dietro Importante, www.aria.casa e poi finisce, non c'è un .com, un .it perché noi abbiamo il .casa, è nostro Mi piacciono le cose semplici? Esatto, non avete dimenticato niente, finisce lì, .casa Sono diventati dei provetti comunicatori per cui vedete, si rivolgono direttamente a voi senza problemi, io posso andarmi a prendere un caffè, non so, fate voi, va benissimo No, no, è bello, tutto ciò è molto bello. Allora, nei tre giorni, senza scendere troppo nei dettagli dei programmi, però se mi potete o se ci potete o gli potete dare qualche perla, qualche cosa, magari così giusto per stuzzicare l'attenzione, vabbè il 16 va da sé che c'è l'apertura, alle 11 taglio del nastro eccetera, però nel pomeriggio c'è un evento importante mi dicevi prima. Sì, diciamo, l'evento importante, ce ne sono diversi importanti, sono delle conferenze intanto molto importanti, anche collegate, interessanti. Abbiamo poi alle ore 18.30, venerdì 16, ospiteremo, diciamo, il comune di Fano per una tavola rotonda sulla mobilità sostenibile e quindi legato soprattutto al concetto di città più ciclabili. Questa cosa a noi piace molto in quanto innanzitutto invitiamo tutti i fanesi o comunque che è nei dintorni di Fano a venire ad aria in bicicletta. Prima di tutto perché Fano è vivibilissimo in bicicletta, non avete problemi di parcheggio. Non ci sono le salite. Aria ama la bicicletta, questo è un messaggio che stiamo comunicando sui social eccetera, ci piace. Abbiamo aria le nostre biciclette, facciamoli uscire dal garage e facciamogli prendere aria. È comunque un mezzo sostenibile, anzi forse parte ai piedi è il più sostenibile di tutti. Ringraziamo il comune di Fano che ha voluto fare questa iniziativa qui da noi, il nostro ospite, siamo molto contenti perché sono stati molto collaborativi, quindi è giusto anche dirlo. Il 17 invece tra i tanti eventi che ci saranno dal giorno di mezzo ce n'è uno in particolare che riguarda una categoria professionale e lavorativa che in queste ultime settimane ha lavorato molto con professionalità e con grande abnegazione e senso di sacrificio che sono i vigili del fuoco, i pompieri li abbiamo visti impegnati veramente ad Amatrice, ad Arquata del Tronto, veramente darsi anima e corpo. Loro saranno i protagonisti di un evento proprio... Si chiama Sicurezza Antincendio in Casa, ringraziamo il comando provinciale dei vigili del fuoco della provincia di Pesaro Urbino, saranno nostri ospiti e faranno un'interessante illustrazione di quelli che sono i buoni comportamenti da avere in casa per evitare incidenti o altro. Se ne sentono spesso al telegiornale, insomma, di incidenti e cose tristi, diciamo, però molto spesso, anzi quasi sempre si possono evitare, allora ci aiuteranno a capire anche questa cosa. Sì, perché la casa, forse non tutti lo sanno, qualcuno lo sa, è uno degli ambienti nei quali avvengono più incidenti, assolutamente, e dici, ma sono tranquillo, sto a casa, non è vero, aprami in casa, la maggior parte degli infortuni di cene traumatico avviene proprio all'interno delle mura domestiche, diciamo, però ecco, giusto. Sapevolezza domestica anche da questo punto di vista ci aiuto, esatto, assieme a molti altri progetti e poi... C'è anche una parte cinematografica che a me mi ha stimolato molto come idea perché è molto carina, è molto bella, ci sarà la proiezione di un film. Per la prima volta, credo, non vorremmo dire cose, per la prima volta al pincio facciamo cinema all'aperto, abbiamo, avremo un palco dove ci saranno le conferenze con a fianco uno schermo grande e quindi abbiamo pensato in una delle tre serate, poi magari parliamo delle altre due, di proiettare un film, un film su un architetto di fama mondiale, Norman Foster, quindi un film che racconta la sua vita, i suoi progetti, quindi crediamo che anche questo è un modo di informare e fare cultura dell'abitare. È un film molto interessante perché lui ha avuto una vita dai soborghi di Londra senza una formazione ufficiale, è cresciuto, poi la formazione ufficiale l'ha avuta dopo come riconoscimento, ma è uno dei geni della progettazione, un film molto molto interessante, della collezione Feltrinelli, quindi direi che vale la pena vederlo. Invece le altre serate dicevi proprio così? Le altre serate sono due serate di musica, il venerdì abbiamo un duo acustico, Giulio Vampa e Giovanni Gualandri. Siamo emozionati. Sì, siamo un po' emozionati. Non si direbbe affatto, celate molto bene la vostra emozione. Mentre venerdì abbiamo, sabato sera, dalle otto e mezza, abbiamo una collaborazione col Fano Jazz Network e ospiteremo Massimo Morganti ed Emilio Marinelli. Ecco, quindi insomma, vedete, ci sono giornate... Un concerto sicuramente interessante, sono tutti e due interessanti e speriamo che il pubblico di Fano, insomma, apprezzi. Poi si può venire lì, si gira, si fa, si ascoltano le conferenze, si conoscono gli espositori. Si mangia qualcosa. Si mangia qualcosa perché abbiamo tre eccellenze, quindi vi consiglio di passare. E in più dopo si può sentire un po' di musica, una sera si vede un film. Si può rilassare. Ecco, è un evento che parte dalla mattina, insomma. Dalla mattina è tutto un susseguirsi di occasioni, di eventi. Fabio giustamente diceva ci si può anche rilassare perché noi abbiamo anche una zona dove si può girare rilassandosi. Rilassandosi si possono vedere i quadri di due artisti locali, Michele Omiccioli e Vittonucci che ci hanno fatto l'enorme onore di farci ospitare una loro mostra. E quindi c'è un po' di... per tutti i gusti. Insomma, avete capito, c'è, come dire, un insieme di cose che gira attorno alla casa. I quadri e gli artisti fanno parte delle nostre abitazioni perché i quadri che appendiamo alle pareti sono i loro. C'è, insomma, il living, c'è l'aspetto architettonico, c'è quello che naturalmente riguarda il green, insomma. È un tutto tondo su... Tanta roba. Tanta roba. Volevamo aggiungere tra questa tanta roba altre due cose che, diciamo, una è la visita al complesso di Sant'Agostino, organizzata insieme allo Centro Studi Vitruviani e l'Archeoclub. E faremmo il domenica 18 dalle 11, bisognerà prontarsi sul nostro sito, potete chiamarci anche per informazioni, le informazioni sono tutte sul programma. E poi ci sarà... Ci sono solo 25 posti. Ci sono solo 25 posti. Poi abbiamo pensato anche i più piccoli, ci saranno due appuntamenti, il sabato e la domenica, con i ragazzi di Filosofia dei Bambini. Filosofia coi bambini. Filosofia coi bambini. Filosofia e bambini, insomma, li mettiamo insieme. È molto interessante perché comunque loro hanno un progetto proprio legato alla casa e quindi presenteranno, diciamo, questa ai bambini, più che altro l'approccio del bambino verso la casa. Essendo anche loro abitanti della casa. Così la famiglia può arrivare, magari il bambino fa il suo laboratorio con delle persone che comunque sia sono dei formatori, delle persone non prese a caso, diciamo, con un curriculum di tutto rispetto. Poi trovate tutti i riferimenti, tutti i nomi nella guida e nel frattempo i genitori possono fare un ceretto e dedicarsi a relax. E gli aspetti della casa che più gli interessano, così insomma, che sono tutti toccati, tutti trattati. Non ne avete lasciato indietro uno? Beh, noi, diciamo... Ci avete provato, però. Noi è l'ultima pagina di questa guida dove abbiamo, diciamo, ringraziato tutte le persone che comunque hanno permesso anche di fare questa cosa perché tante persone hanno collaborato, ci hanno dato consigli, eccetera. Ci hanno sopportato. Ci hanno sopportato. Ci hanno sopportato, soprattutto. Esatto. Noi abbiamo scritto proprio Aria Anno Zero, nel senso che noi ce la stiamo mettendo tutta per creare un evento a tutto tondo in cui tutto funzioni. Però non è da dimenticare che questa è la nostra prima edizione e siamo, diciamo, due professionisti del settore, ma è la prima volta che organizziamo un evento. E quindi vi misurate con questo aspetto. Sicuriamo con questo aspetto. Siamo consapevoli che... Ma noi siamo fiduciosi che tutte le persone che ci stanno vedendo in questo momento e che giustamente hanno a cuore la propria casa, non solo la propria, ma anche quella magari dei figli o dei parenti, insomma, siano dei frequentatori di questo evento. Ultima chiosa, prima di salutarci, l'evento non finisce qui, nel senso che comunque sì, sono tre giorni in cui focalizzate l'attenzione su questo. Però vi piace anche mantenere un filo di comunicazione fino alla prossima edizione e quindi vi ci si rivedrà durante l'anno. Aria non è l'evento, Aria è un progetto. Ecco. Un progetto è una cosa grossa, studiata e pensata. Inizia con questo evento per far conoscere noi, per far conoscere il progetto, per farvi seguire Aria. Poi durante l'anno ci saranno visite in azienda, visite in cantiere, presentazioni di tesi di laurea, presenteremo, daremo la notizia che fra circa un mesetto partirà un concorso di progettazione assieme a una ditta di Fano e per i giovani progettisti. Insomma, ci sono tante cose e durante l'anno si segue un percorso. Poi l'evento è la cosa che riassume il percorso fatto durante l'anno e da lì si riparte. Quindi, insomma, è una cosa che vi terrà impegnati anche nel resto dell'anno, non è che lo mettiamo in naftalina e poi ci riposiamo. Abbiamo già in cantiere un paio di idee, già da qui a qualche mese. Una sarà con l'ordine dei geologi, lo possiamo dire, perché abbiamo comunque un'idea di fare un tema anche molto attuale. E anche degli ingegneri. E anche degli ingegneri, esatto. Che è quello della sismicità. Che è sicuramente un argomento molto... e di cui non si dovrebbe parlare soltanto in occasione di eventi sismici o di, purtroppo, sciogure come quella che ci ha attraversato qualche settimana fa, ma bisognerebbe parlarne sempre, perché, insomma, non è che, vista anche la imprevedibilità del fenomeno, non è che dici, vabbè, fra dieci anni intanto mi, no, oggi ma può succedere anche domani. Abbiamo deciso di non trattarlo direttamente, ci saranno gli ordini professionali presenti e anche l'ordine degli ingegneri, che è proprio, diciamo, interessato anch'esso in prima persona, che volendo potrà spiegare alcune cose. Però abbiamo deciso di non parlarne direttamente durante aria, perché sarebbe stato non il momento giusto. È successo da poco, bisogna analizzare le cose, bisogna analizzare i dati, e allora con serietà, fra uno o due mesi, se ne parlerà in maniera un po' più tecnica e con calma si spiegheranno diverse cose. Per noi era il modo migliore. Con l'idea proprio di far passare questa nuvola che c'è ora, è comunque mantenere l'attenzione su questo argomento. Quindi abbiamo pensato di lasciare alle tante iniziative che ci sono, ce n'è anche una adesso bellissima, Fano, tra qualche giorno. E quindi concentrarci su quello che avevamo già definito, per poi ripensare questo argomento tra qualche settimana, qualche mese. Se no rischia che cali l'attenzione, invece bisogna sempre stare attenti. Bene, allora, Pincio, Fano, 16, 17 e 18, Aria, la casa, anzi l'evento dedicato alla tua casa, per apprendere nozioni o soltanto navigare in questo mare magnum di aziende e di opportunità per la propria abitazione. Allora, grazie a Cora Fattori e a Fabio Signoretti, che sono stati così divulgativi e così empatici anche. Grazie a voi. Per spiegarci, insomma, aria. Bene, grazie e insomma ci rivedremo lì sicuramente. Vi aspettiamo. Eh, ci aspettiamo. Bene, grazie a tutti voi per l'attenzione, dopo cena termina qui questa puntata dedicata appunto a questo prossimo evento. Ciao, alle prossime. Ciao, alle prossime.